Ciao a tutti e benvenuti. Oggi risponderò alla domanda che mi avete fatto, perché i limoni non diventano gialli? Prima di iniziare, come al solito, vi chiedo di lasciare un semplice like e di iscrivervi se è la prima volta che vedete il nostro canale Cura la Natura, dove troverete dei video tutorial su ogni aspetto del giardinaggio, dalle basi per i principianti ai consigli per i pollici verdi più esperti. Grazie mille e buona visione. Partiamo col dire che la maturazione dei frutti è un processo naturale che ha lo scopo di permettere ai semi di germinare e dare origine a nuove piante per la sopravvivenza della specie. Un delicato fiore sboccia sull'albero. Il polline, trasportato da insetti o dal vento, feconda l'ovulo all'interno del fiore. Si forma un piccolo frutto verde. Il frutto inizia a crescere, aumentando di dimensioni e peso. All'interno del frutto si sviluppano i tessuti che daranno origine alla polpa, ai semi e alla buccia. Il frutto assorbe acqua e sostanze nutritive dal terreno attraverso le radici, immagazzinandole per la sua crescita e maturazione. Il processo di maturazione avviene grazie alla presenza di un ormone vegetale gassoso chiamato etilene, modificando il colore della frutta e anche il quantitativo di clorofilla. Il clima ha un ruolo fondamentale. Il freddo induce cambiamenti a livello cellulare nell'agrume, attivando una serie di reazioni che portano alla maturazione completa. Questi cambiamenti riguardano soprattutto la sintesi di zuccheri, la riduzione dell'acidità e lo sviluppo degli aromi caratteristici. Per questo motivo che, se le temperature invernali sono troppo miti, gli agrumi che necessitano del freddo potrebbero non maturare completamente, presentando un sapore più acido e una colorazione meno intensa. In alcuni casi, la maturazione potrebbe avvenire in modo incompleto, con conseguente minore conservabilità dei frutti. In conclusione, il bisogno di freddo per la maturazione degli agrumi è un fenomeno legato a specifiche varietà e alle loro origini geografiche. Comprendere questo meccanismo è fondamentale per ottenere frutti di alta qualità e per pianificare le coltivazioni in modo ottimale. Grazie mille per la visione e al prossimo video!